Minorca, splendida isola spagnola dell'arcipelago di Le Baleari, situata nel mar Mediterraneo. Numerose sono le spiagge e le calette di Minorca di assoluta bellezza, con lunghe dune di sabbia bianca e dorata, calette deserte e incontaminate che sono racchiuse da un mare cristallino, verde e azzurro nei punti più profondi. A due chilometri da Cittadella, nell'estrema punta ovest di Minorca, si trova il villaggio Eden Village Callan Blanc, di fronte ad un susseguirsi di piccole calette di sabbia e attorniato da un bosco di pini marittimi. Il villaggio ha un'atmosfera intima e raccolta, con ambienti curati minuziosamente e appartamenti comodi e ampi. Pensato soprattutto per le famiglie, Callan Blanc è il luogo ideale sia per chi ricerca uno spazio di tranquillità, sia per gli amanti del divertimento, che possono sempre approfittare della vicinanza con i locali del centro di Cittadella. Il villaggio dispone di 80 appartamenti composti da camera da letto, sala, bagno completo, aria condizionata, tv sat, telefono, balcone o terrazza. Per gli amanti della cucina sono a completa disposizione un ristorante principale con ottima cucina italiana e servizio a buffet, un bar caffetteria e un ristorante alla carte con specialità di pesce a pagamento. Per gli amanti dello sport e del divertimento la struttura offre una piscina attrezzata per adulti e una per bambini con ombrelloni e drive. Un campo sportivo polivalente, tennis, calcetto, pallavone, a pagamento, biliardo e ping pong. Nelle vicinanze di equitazione, sport acquatici, ristoranti, discoteche, campi da golf e minigolf a 30 km. Ad agliettare la permanenza all'interno di questo splendido villaggio, un fitto programma di emiazione diurna e serale curata dall'equipe Eden che con gentilezza e allegria accompagnerà tutti gli ospiti durante il soggiorno. Per i più piccini, Miniclub 4-12 anni adorare i prestabiliti. E' impossibile non approfittare delle innumerevoli escursioni che vengono proposte e non cogliere appieno le inaspettate visioni e le bellezze molto a fiato che l'isola offre. Tra gli altri servizi sono disponibili reception e sala tv, auto a noleggio e bici a noleggio, nelle vicinanze negozi, ristoranti e fermata bus. Eden Viaggi augura a tutti un'ottima permanenza.